Musica Buonasera e ben ritrovati ad un'altra puntata di Vita d'Atleta. Quest'oggi ospite in studio, medagliato olimpico a Socio 2014 in Short Track, specialità staffetta, Elena Viviani. Grazie Elena per aver accettato l'invito. Ciao Katia, è stato un piacere. Ti viene da ridere. Elena, hai portato la tua medaglia olimpica, la vediamo ai tuoi piedi, ma la vediamo, ma ce la mostri dopo. Ho insistito io che tu la portassi perché è una medaglia olimpica, va sempre mostrata. E partiamo da quel mese di febbraio del 2014, quando l'Italia salì sul podio di questo ambitissimo podio olimpico. Partiamo dalle semifinali, ce la racconti tu. Sì, già qualificarsi alle olimpiadi è stato, non dico proprio difficile, perché comunque siamo partite bene sia da inizio stagione. Mi hanno fatto dei po' di staffetta, quindi avevamo ambizioni abbastanza alte. Siamo arrivate tre volte terze su quattro prove di Coppa del Mondo, quindi siamo arrivate alle olimpiadi già un po' speranzose, diciamo. Poi vabbè, la semifinale e le olimpiadi è totalmente diversa da una semifinale di Coppa del Mondo, anche col pubblico, casino, gente che urla, non si capiva niente. Se volevi sentire il tuo allenatore, dovevi star lì un quarto d'ora a guardarlo, in Balla Ustra. Poi no, eravamo anche poi in semifinale con le olandesi, con cui diciamo non abbiamo un ottimo rapporto, ci litighiamo spesso, diciamo. Però niente, alla fine si sono state ripagate comunque dalle ottime prestazioni. Quindi in semifinale c'era Italia, Olanda? Italia, Olanda, Cina e Giappone, mi pare. Sì, io mi ricordo. Cina e Giappone. In teoria avremmo dovuto, l'obiettivo era partire, stare attaccati alla Cina, solo che ci siamo un po' perse. Sì, mi hanno fatto un cambio attaccate, poi ci siamo un po' staccate, quindi tornata sotto l'Olanda, ci sono stati un po' di casini. C'è stato il cambio poi con Lucia e il contatto con l'olandese, dove è caduta l'olandese. E per stavolta sono state squalificate loro e ci hanno premiato per una volta. Certo, tu dici, e questa volta è andata così, perché ricordiamo le campionate europee, era avvenuto il contrario, su un contatto, su una spinta, Arianna è inciampata su queste leve lunghe di questa olandese, l'Italia non ha potuto agguantare un oro che probabilmente sarebbe stato sulla carta. Quello, poi anche l'anno scorso si è stata squalificata, sempre agli europei, e gli europei siamo un po' sfortunati. Quindi, staffetta sfortunata agli europei, ma poi sul podio olimpico la finale. Quindi, in finale, le solite quattro nazioni leader al mondo, Italia, e poi le due super blasonate, Cina e Corea, ed il Canada. Che cosa si prova? Gli istanti, proprio a 20 secondi dallo start, il cuore batte a mille. Sì, 20 secondi diciamo che noi la prendevamo quasi un po' su... cercavamo di sdrammatizzare la cosa. Eravamo comunque in pista, noi quattro parlavamo, perché poi c'era... stavamo riparando magari il ghiaccio, c'erano buchi, ok? E allora eravamo lì a parlare, magari a far battute, un po' per rilassarci. Il più era magari proprio fuori dalla pista, appena prima di entrare, che guardavi magari la finale B, quando guardavi sul megaschermo, sentivi tutto il pubblico urlare, ti venivano quasi brividi. Cuore a mille, ovviamente. E... cioè, io bollivo prima di entrare in pista. Se mi toccavo, secondo me, c'è un uovo o qualcosa, non lo so. Ghiaccio, si scioglieva sotto i tuoi batti. Sì, 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 proprio. Avevate un motto prima della partenza? Sì, cioè, di solito prima di entrare in pista diamo il 5 alla compagna che rimasta fuori, visto che di solito siamo in 5, però gareggiamo in 4. E poi dentro, appena prima che lo starter ci chiama, mani al centro e a bomba. A bomba, è stato il motto. Sì. Pronti via, è stata combattuta dall'inizio alla fine. Sì, siamo partiti che... Siamo partiti bene. Ce la siamo giocata fin dall'inizio, poi è arrivato quel contatto dove Arianna è caduta sempre su gambe larghe della coreana, sto colpo. E niente, lì ci siamo persi, si è staccate di mezzo giro, sarà stato. Niente, noi abbiamo continuato. Alla fine è una finale olimpica, devi andare finché puoi, e poi abbiamo sperato. Alla fine, all'inizio magari ci sia rimasto un po' così, per comunque arrivare a quarti, sai che potevi... Se avessimo potuto giocarci alla fine, alla fine, era un altro conto. Così era un po'... C'era un po' di rammare, magari. Invece qualche minuto di attesa, la giuria si è consultata e poi la squalifica da parte della Cina e l'Italia bronzo. Cosa hai provato in quell'istante in cui hai visto sul tabellone squalifica Cina? Stavamo scendendo dal ghiaccio, cioè io avevo il Paralama in mano, stavo per mettere il Paralama, ci siamo girate proprio tutte e quattro assieme, a guardare lo schermo in alto, mi ha letto Italia 3, sì, terzo posto, ciao. Ho alzato braccia al cielo, fra un po' lanciavo il Paralama, ho abbracciato Lucia, Rianna, Martina, sono scoppiata a piangere praticamente, c'era anche a Bordo Balaustra, c'era il nostro fisioterapista, ciao, abbraccia anche lui, c'erano i maschi e tutto così, vai dagli allenatori, abbiamo portato la bandiera per il ghiaccio e tutto, era bellissimo. In quei momenti probabilmente si realizza anche tutti gli sforzi di una carriera, seppur giovane, la tua hai solo 21 anni, però si sono realizzati. Sì, cioè prima di partire era più un sogno che altro, cioè fin da piccolo uno pensa, dice che bello andare alle Olimpiadi magari, però non lo vedi neanche, cioè, dici cacchio, è quasi una cosa impossibile, non è che vanno tutte le Olimpiadi. Poi ok, ci vai e dici, boh, sono alle Olimpiadi, poi vinci una medaglia e basta, non capisci più niente. Eh sì, il momento della premiazione? Abbiamo fatto subito sul ghiaccio la Flower Ceremony, cioè ci hanno chiamato sul podio, ci hanno dato questo mazzo di fiori e davanti a tutto il pubblico nello stadio, e poi alla sera invece a Medal Plaza, con tutte e anche le altre premiazioni delle altre specialità, e anche lì davanti a tutto il pubblico di soci, tutta la piazza, la strapiena, e anche lì… Momenti indelebili. Sì. In più la gioia di avere al tuo fianco i tuoi familiari. Sì, mia mamma e mio fratello sono venuti a soci tutto il periodo, sono arrivati un giorno prima della prima gara, e sono rimasti lì due settimane a vedere allenamenti, gare, allenamenti, tutto. E mio papà invece è arrivato lì solo per la finale di staffetta, così ha deciso il giorno prima che veniva a soci, e è arrivato. Una bella sorpresa. Sì, sì, sì. Soci è stata la tua prima esperienza olimpica, che cosa ti è sembrata? Te lo immaginavi così tutto grande, tutto bello? È una gara totalmente diversa dalle altre, cioè quando vai in giro a fare le coppe del mondo ti sembrano già tutto grande, ok. Qua invece era ancora più esagerato, anche solo il fatto per andare in giro dovevi avere sempre sto pass, che sennò non ti facevano andare da nessuna parte. Quando andavi in mensa, una cosa gigantesca, potevi mangiare con gli atleti delle altre squadre, gli atleti stranieri e tutto, era tutto... Anche il villaggio, poi con le camere, tutte le case vicino, era tutto... Il villaggio era dedicato a tutto il ghiaccio o c'erano altre specialità sci alpino, nordico? No, c'erano il nostro villaggio che era quello sulla costa, eravamo praticamente in spiaggia, c'erano del pattinaggio, quindi artistico, short track, pista lunga, c'era l'hockey, il curling e basta, mi pare. E invece c'erano altri due villaggi, tutti e due in montagna, uno per il biathlon e lo sci di fondo e l'altro per la discesa e slittino e... Avete avuto modo di salire in montagna? L'ultimi giorni... Noi abbiamo finito il 21 con le ultime gare, siamo rimasti lì anche per la Cinemania Chiusura, che era il 23, e questi due giorni siamo andati su a vedere anche una gara di biathlon, a vedere lo slalom, l'ultima gara, e abbiamo fatto un giro nel villaggio, tutte le casette fatte a chalet su in montagna, era carino. Hai avuto modo di conoscere Elena, qualche personaggio di spicco del mondo, sì beh, sia del ghiaccio che della neve? Beh, già abbiamo fatto più amicizie con anche altri italiani, per dirti, ho conosciuto Carolina Cosner, non c'avevo mai parlato, e lì eravamo come tutti in una grande famiglia, parlavi, ti sedevi a cena o a pranzo, che parlavi di qualsiasi cosa, non era... Certo. Era bello così. Certo. E questo è Soci, beh, poi sei tornata a casa, una bella festa, sia al comune di Val di Dentro che la Borneo Ghiaccio, che ti ha cresciuta, insomma, feste a go-go. Sì, appena tornata da Soci, sono venuti a prendermi in aeroporto, c'è venuto il sindaco a prendermi direttamente lì, e fai foto anche lì, fai foto con gli allenatori, poi siamo partiti in ritardo perché le valigie non c'erano, quindi abbiamo aspettato due ore, poi finalmente siamo partiti e arrivata a casa, neanche tempo, non sono neanche passata a casa, non so, dammi una rinfrescata o qualcosa, niente. Abbiamo accostato la macchina, c'era lì la banda che mi aspettava, con la gioventù di Solaccio, Semogo, tutti i bambini, la mia famiglia, tutti che mi aspettavano per fare una parata fino in piazza. e festa anche lì. Te l'aspettavi, è stata veramente una sorpresa. Sì, perché, no, magari mi aspettavo qualcosa, per dire, cioè, comunque una medaglia olimpica, però non così tanto, cioè, poi mi hanno fatto parlare sul palco, e fare discorsi, firmare autografi ai bambini, non sono abituata. Beh, non sei abituata, però sei portata, perché del gruppo delle ragazze, obiettivamente sei sempre stata la più, lo quacce, la più... Sì, ci provo. Cioè, dalla mia che sono logorroica, quindi, vedi... Poi, mi devono fermare di solito, quindi... Brava, va bene, va bene così, anche perché, insomma, sei diventata un personaggio, è cambiata tanto la tua vita da questa medaglia? Ma, a me personalmente, no. Cioè, io non mi sento cambiata, niente. Cioè, comunque vado avanti con lo short track, continuo con i miei allenamenti, solo che magari vengo chiamata a eventi, o presenziare a delle cene, o magari mi incontrano per strada e mi chiedono un autografo ai bambini piccoli, o... Più in quello è cambiato. Cioè, magari la gente ti riconosce, ti fa... Le prime settimane, chiunque ti incontrava per strada, ti faceva i complimenti, ti sformava a parlare, tutto, e... Ti metteva quasi in imbarazzo, perché non sei abituato. Però ormai ci hai fatto il callo, l'abitudine. Eh, più o meno. Ogni tanto... Mi imbarazzo ancora ogni tanto. Ma no, dai, che fa... Fa parte del gioco ed è bello così. Partiamo un po' dalla tua carriera. Hai cominciato da piccolissima, patinare. Sì, avevo sei anni, quando ho fatto... Cinque, sei anni, quando ho fatto il corso con l'asilo, il corso di avviamento, prima facevo fondo, ho seguito i miei fratelli, facevano tutti cd fondo, quindi... Anch'io ho seguito la famiglia. E dopo, niente, ho provato col pattinaggio, ho continuato due anni a fare sia fondo che pattinaggio, e poi ho scelto. Short track. Sì. I primi anni erano pattini d'artistico, per intenderci, o hai cominciato subito con le lame lunghe? No, no, no. Prima avevamo i pattini come quelli che danno al pubblico. Cioè, pattini... non so neanche se le lame erano affilate, non lo so. Giusto per stare in piedi, anche perché all'inizio zampettavi attaccato alle balaustre, cadevi una volta sì, una volta dopo pure, quindi... così. E poi pian piano sei entrata nel gruppo agonistico, chi erano i tuoi allenatori dell'epoca? Ma la mia prima allenatrice era la Renata di Bormio e poi pian piano comunque crescendo nei gruppi, è arrivato Adelio, Antognoli, poi Michele e Magarotto, quella nazionale, e poi arrivare fino a qua. Hai qualche ricordo di una tua gara da piccola? Ma da piccola... Io sono cinquecentista, quindi in teoria devi avere una bella partenza. Io da piccola... Aspetta, spieghiamo al pubblico cosa vuol dire essere cinquecentisti. Ma nello short track ci sono varie distanze, ci sono i 500 metri, i 1000 metri, i 1500 metri, che sono 4 giri e mezzo la distanza più corta, 9 giri e 13 giri e mezzo e si corre individualmente contro 4 avversari oppure 6 nelle distanze più lunghe e ovviamente per fare i 500 devi essere un po' più sprinter, devi avere caratteristiche più veloci e invece per i 1500 e anche i 1000 più resistenza, più... essere un po' più passista, un po' più... Mezzo fondista. Sì, dai. Ok, quindi le tue caratteristiche sono quelle... 500 e un... arrivo ai 1000, dai. Mi sto concentrando anche per migliorare sulle distanze lunghe ma pian piano arrivo anche lì. Quindi ci stavi dicendo da piccolina la tua gara che io partivo o in primo, in secondo, in terza corsia alla prima curva ero ultima. Cioè io non partivo proprio. Te la prendevi con calma? Eh, così non lo so, non ce l'avevo proprio la partenza, non riuscivo. Ma vabbè, lì così ho un po' imparato a superare perché mi trovavo sempre in ultima quindi partivi, iniziavi giri all'esterno e per arrivare alla fine. Vabbè, erano solo due o tre giri quando sei piccolo fai tre giri al massimo, cinque se proprio... e quindi partivo in rimonta così. Poi cadevo un sacco di volte. E beh... Cadevo. È anche bello scivolare sul ghiaccio. Mi sa che era quello. Esatto. Era per quello che cadevo. E poi vabbè i materassi ci sono sempre stati per fortuna. Poi quando sei piccolo non vai a queste velocità non è neanche... Certo, certo, certo. Giochi della gioventù hai qualche ricordo? Ma ho fatto... Cioè, quando eravamo piccoli noi mi ero qualificata al trofeo prezzemolo. Eravamo andati in Valle d'Aosta, avevamo fatto la sezione Lombardia ed eravamo andati lì fa sta gara. Ero arrivata o secondo o terza in classifica generale. E poi, niente, dopo ci avevano regalato un biglietto per Gardaland. Eravamo andati tutti insieme a Gardaland a divertirci. Certo. Il trofeo prezzemolo per intenderci è un po' il topolino al Pinocchio sugli sci. Quindi giusto per avere una paragone. Se entrate in Nazionale Junior a che età? Nazionale Junior avrò avuto 13 anni più o meno. Nazionale Junior le prime convocazioni. E il mio primo mondiale Junior ne avevo 15 anni a Sherbrooke in Canada quindi anche lì prima trasferta lunga. E quindi sì. E dai mondiali Junior che sono arrivate le tue prime soddisfazioni a livello mondiale con la staffetta assieme ad un quartetto che poi è risultato tale quale l'Olimpiadi ovvero composto da te poi Lucia Peretti Arianna Fontana e Martina Valcepina vincesse il primo oro in staffetta. Sì eravamo lì in Canada a Sherbrooke avevamo provato un sacco di volte la staffetta però eravamo sì non puntavamo all'oro di sicuro poi ci siamo trovate in finale ci siamo qualificate per la finale poi ci sono stati un po' di contatti che alla fine l'abbiamo scampata a noi e il primo oro era il primo anno che la staffetta era ufficiale quindi il primo oro in assoluto della staffetta mondiale Junior. Tra l'altro fu un oro arricchito da un record del mondo. Sì il primo giorno c'erano le qualifiche e avevamo fatto il miglior tempo quindi era il primo record del mondo Junior poi il giorno dopo le coreane ce l'hanno battuto ma il primo è stato vostro e nel libro dei Guinness e dei primati rimane la staffetta azzurra probabilmente sarà stata anche quella la prima trasferta oltre oceano sì perché prima facciamo solo le gare magari in Europa le gare di star class o comunque gare a livello europeo e quella la prima a livello mondiale poi lì avevo corso solo la staffetta quindi non avevo fatto l'individuale e così comunque in altri 14 anni prendere l'aereo andare fino in Canada non è assolutamente da tutti avete occasione di girare di visitare o solamente Palazzo del Ghiaccio e albergo le vostre trasferte qualcosa riusciamo a vedere cioè non troppo da dire vai per musei o vai a vedere però anche solo un giro in centro città o vabbè lì eravamo in Canada Sherbrooke un paesino sperduto quasi quindi non c'era tanto da vedere però si è riusciti a fare le nostre scappatelle al centro commerciale a fare un po' di shopping anche così beh poi comunque lingua lingua diverse culture diverse si comincia un po' a entrare nell'ottica di ciò che poi la carriera ti porterà ti porterà in futuro lì per parlare o sapevi bene il francese perché lì parlano inglese o francese ma soprattutto francese in quella parte del Canada però con l'inglese devi sapertela cavare perché se no se no parli a gesti cioè puoi farcela a gesti ma insomma forse in Cina beh mangiare bere qualcosa riesci a dire poi chiedi aiuto gnangangang glu 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 esatto benissimo frequentando la ragioneria linguistica insomma con le lingue te la cavavi sì no io ho fatto 5 anni di ragioneria quindi ho studiato inglese poi lo studiavo già alle medie quindi ero già avviata e poi ho fatto 5 anni di inglese e di tedesco più ulteriore 3 anni di francese quindi qualcosa qualcosa la cavavo beh poi comunque girando si impara perché si parla assieme agli altri colleghi amici avversari e le lingue si affinano cioè se non hai paura di parlare impari se ti butti devi buttarti parlare ma che vada si mettono tutti a ridere vabbè certo non hai finta di niente beh lo stesso Robert Antonioli ci diceva che quando lui gira il mondo col suo dialetto della valfurva si fa capire in tutto il mondo quindi bisogna sì sì se vuoi farti capire se vogliono capirti ti capiscono quindi bene basta provarci quindi passano gli anni passano le stagioni finché sono aperte da lì a poco a dire la verità le porte della nazionale maggiore sì la mia prima coppa del mondo in assoluto era nel 2009 a fine stagione 2009 sono andata a Dresda per una coppa del mondo e la prima batteria che ho fatto partivo in quinta e mi sono impuntata pure ok quindi la partenza abbiamo capito che non era a tua forte no poi ero anche magari ero partita bene ma magari l'agitazione ok mi sono impuntata finita giù per terra niente mi sono rialzata sono ripartita e vabbè fa niente ho preso un po' sul ridere e vabbè e poi dall'anno dopo che era l'anno olimpico ho fatto tutte le tappe di coppa del mondo abbiamo qualificato i posti e poi quell'anno le olimpiadi non sono andate però abbiamo fatto i mondiali a squadre a Bormio dove siamo arrivate terze quindi stai parlando del 2010 l'annata olimpica era quella di Vancouver i mondiali a squadre furono proprio a Bormio una bella emozione correre in casa sì soprattutto anche perché è una gara particolare mondiale a squadre non è come le altre gare ma qua corri sì fai la tua distanza però prendi un punteggio che va a sommarsi a quello delle tue compagne di squadra e poi in base al punteggio vedi un po' come sei in classifica ci sono dei turni preliminari per qualificarti per la finale A o finale B e poi prova a punteggio quindi anche se magari cadi però due punti li prendi comunque vanno a sommarsi a quella tua compagna che ha vinto ok quindi proprio un lavoro di squadra proprio un'emozione diversa sai che hai contribuito proprio a questo è una responsabilità ancora maggiore peccato questo mondiale è stato tolto dal calendario dell'ISU a te spiace? era una bella gara anche per dirti i giovani che arrivano hanno la possibilità di fare questa gara magari c'è un po' meno pressione perché dici sì non c'è questo risultato individuale devo solo dare il meglio di me per riuscire a fare questo risultato di squadra e avrebbe aiutato un sacco poi era divertente anche come gara facevi anche amicizie con le altre squadre prima di entrare nella batteria ci sono fuori dei box quindi tutta la squadra tipo tutte e cinque le partecipanti stanno lì l'allenatore appena prima della batteria dice il tuo nome perché decide al momento chi gareggerà nella batteria e ti scelgono poi a turno sceglie prima una squadra poi un'altra così era proprio divertente una nomination last minute sì 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 proprio all'ultimo momento scopre che te devi entrare a fare tre giri e mezzo così proprio per era una nazionale targata estremamente valtellina Bormio sì anche sì Bormio comunque è sempre stato all'avanguardia come preparazione nello short track Club Bormio Ghiaccio hanno sempre fatto un ottimo lavoro lì i nostri allenatori della nazionale erano appunto Magarotto e Antonioli Bormini guardiamo Fabio Magarotto e Michele Antonioli e e anche noi comunque a parte Cecilia Maffei che è del Trentino le altre eravamo tutte della zona c'era Katia Zini di Livigno e le altre eravamo sempre noi a Bormio a Isolaccia o lì sotto ed era anche un motivo per il quale vi allenavate sempre a casa anche quando eravate in raduno con la nazionale e le cose probabilmente erano un po' più semplici che non dover fare delle trasferte in giro per l'Italia sì quello mi ha aiutato un sacco perché andavo ancora a scuola quindi fare i ritiri a Bormio era più comodo cioè per me sai che andavi a scuola magari riuscivi quell'ora per fare l'allenamento e riuscivi a gestire le due cose con i ritiri fuori cioè per me adesso non è un problema perché non andando più a scuola posso spostarmi posso stare via anche il mese di ritiro però se dobbiamo magari tirare sulle nuove leve è un po' più problematica poi però anche lì dipende perché magari se la nuova leva è di Torino o di cioè dipende anche lì delle zone vabbè il solito discorso non abbiamo già parlato ultimamente un po' di questa questione Bormio e il resto d'Italia se la nazionale è composta da su dieci da sette atleti dell'alta valtellina è anche un po' uno spreco a livello economico dover investire finanziamenti in altre località per andare a patinare tanto più che il ghiaccio di Bormio lo sappiamo è uno tra i più veloci al mondo peccato sia freddo però con un pile magari si risolve magari accendono il riscaldamento si accende il riscaldamento tutte le maniche corte che bello sarebbe Elena quindi siamo al 2010 l'Olimpiadi di Vancouver tu te l'hai guardata comodamente a casa davanti alla tv ci sono state le prime medaglie da parte di Arianna insomma Arianna sì comodamente non tanto perché mi svegliavo di notte perché con il fuso orario dovevo svegliarmi poi andavo all'allenamento a scuola un po' svarionata perché mi svegliavo tutte le notti e sì Arianna ha fatto la prima medaglia di bronzo individuale sui 500 metri e sì e la tifavi ovviamente sì 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 dopodiché lo staff tecnico è stato completamente rivoluzionato dai due bormini Magarotto Antonioli la federazione ha optato per due tecnici canadesi sì il primo anno è arrivato solo Eric Bedard appunto canadese che è stato poi affiancato da Kenan Wadek solo a partire dal secondo anno quindi ci ha raggiunto un anno dopo e all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà perché era un modo di rapportarsi diverso anche i programmi erano un filo diversi gli allenamenti impostati diversi e all'inizio sì magari ci abbiamo messo un po' a carburare però dopo no dopo è andata sempre meglio che cosa che cosa ha cambiato in maniera esponenziale tra i due tipi di allenamenti quello italiano e quello canadese ma proprio c'è più magari anche la quantità di allenamento abbiamo cambiato un po' magari abbiamo anche incentrato un po' di più sulla velocità un po' meno sulle lunghe distanze per me è stato un bene non so per quelli magari più portati per le lunghe distanze poi non so io mi sono comunque sempre trovata bene quindi non ho avuto queste grandi difficoltà all'ambientarmi eccetera quindi non ci ho neanche fatto così tanto caso io andavo allenamento facevo i miei giri punto finito lì a livello generale si è vista una grande Arianna Fontana migliorata è arrivata a vincere queste tre medaglie alle olimpiadi la staffetta femminile ha medaglia il settore maschile però completamente abbandonato e sono stati un po' messi in difficoltà con subito l'anno dopo Vancouver si è infortunato Yuri quindi sono stati per un anno senza un componente forte della staffetta o comunque della squadra c'è stato il ritiro di Nicola Rodigari che però poi è stato ritrovato l'abbia ritrovato e poi comunque era una squadra giovane anche loro c'è età media anche loro tolti Nicolino e Yuri 23 anni 24 quindi tempo al tempo sì secondo me adesso si avviano proprio sabato 31 maggio ci sono state le elezioni federali è stato composto il nuovo organico è stato eletto il nuovo presidente Bolognini ormai era 16-17 anni che era la carica della presidenza della FISG ha mollato e c'è un nuovo presidente sì si chiama Joss fa Joss di cognome non so dirti molto perché non ho seguito molto la cosa però sappiamo che adesso c'è lui come presidente quindi aspetteremo anche direttive per iniziare la nuova stagione vedere chi ci sarà come allenatore aspettiamo un po' la notizia certa è che non ci sarà Eric Bedard perché è passato tra le fila della Francia sì ha firmato un contratto 4 anni con il team francese quindi con noi basta e aspettiamo sentire cosa farà Guadec se gli affiancheranno qualcuno o se ci sarà lui e basta non sappiamo niente proprio siete in attesa ma hai già ricominciato ad allenarti io ho iniziato a fare qualcosa un po' di bici un po' di corsa martedì sera vado ad allenare i bambini dell'atletica quindi mi diverto un po' ah in vestiti di allenatrice sì sto lì facciamo un po' di andature un po' di giochi un po' di bambini piccoli comunque non 15 anni che devono fare allenamento su corsa proprio ferreo e quindi mi diverto un po' brava poi vado a fare qualche allenamento con la Bormio Ghiaccio e quindi ho riniziato pian piano si riprende la tua ex società di appartenenza perché dal 2011 sei diventata una finanziera sì sì prima ero Bormio Ghiaccio e poi sono riuscita ad entrare in un gruppo sportivo che è una cosa abbastanza importante diciamo anche perché riusciamo ad andare avanti con più sicurezza anche in termini monetari certo e quindi sì dal 2011 finanziera e questa è una bella è una bella come hai detto tu a livello psicologico è una bella certezza Elena una tua giornata tipo durante l'inverno durante l'inverno quindi quando siamo già in stagione in stagione piena ma praticamente ci svegliamo fai alle sette e mezza quindi stiamo parlando di un raduno sì siamo in raduno quest'anno a Roma e raduno a Courmayeur in appartamento sveglia alle sette e mezza ti alzi se riesci subito se no 5-10 minuti e niente colazione per andargi in pista al paraghiaccio almeno un'oretta prima dell'inizio allenamento quindi se allenamento iniziamo alle nove e mezza di essere giù almeno per le otte e mezza fare un po' di riscaldamento a secco corsa un po' di spin bike qualche balzo piegamento un po' di di cose per poi entrare su ghiaccio su ghiaccio dipende dalla giornata se si fa velocità oppure resistenza staffette ok dopo un'oretta e mezza due al massimo fuori dal ghiaccio un po' di defaticamento a volte abbiamo qualche allenamento di balzi però di solito ci lasciano anche abbastanza liberi si torna a casa si mangia quindi fai tu ci cucinavamo noi infatti tu hai detto eravamo in appartamento quindi vuol dire che vi gestite autonomamente si se vuoi lì avevamo la possibilità ancora meglio di rimanere a pranzo al palaghiaccio c'era il ristorante apposta quindi non dovevi cucinare te però se volevi andavi a casa ti facevi il tuo piatto di pasta alla sera invece andavamo sempre a casa non c'era il ristorante quindi lì ti cucinavi tu quindi attorno uno di voi si improvvisava a cuoco ve la cavate bene? si io non particolarmente non sono chi è il cuoco ufficiale della squadra? ma no lì cucinavamo un po' a turno comunque anche con gusti diversi dovevamo riuscire a far combaciare le cose facciamo un po' a turno tanto alla fine la sera fai un po' di la carne o patate zucchine un po' di verdura beh quindi insomma vuole dire cucinare per dieci un bel impegno per il cuoco di turno noi per la fine eravamo due appartamenti maschi e donne quindi già lì la cosa era migliore cucinavamo solo per cinque al massimo ok e quindi così anche perché mi hanno detto che tra gli uomini invece Yuri Confortola è un provetto chef si si lui ha fatto anche l'alberghiera lui cucina bene ogni tanto andava a mangiare a casa dei maschi cucinava lui quindi andavamo sul sicuro e beh sai com'è questo durante i raduni in linea di massima la giornata era questa raduni sempre a Curmaioro o in altre località? ma d'estate abbiamo iniziato la stagione con due raduni in Toscana a San Vincenzo quindi preparazione estiva bici corsa quindi la preparazione estiva comincia nel mese di giugno si cioè l'anno scorso abbiamo iniziato a metà aprile ma perché era l'anno olimpico quindi abbiamo iniziato abbastanza presto adesso in teoria a mese di giugno metà maggio mese di giugno se si riesce iniziare quindi un po' di mare dove fate la parte aerobica? si curate l'aerobico bici corsa iniziamo già un po' con la palestra pesi un po' di tutto senza il ghiaccio ovviamente il ghiaccio il ghiaccio arriva nel mese di? eh a luglio sicuro di solito cioè l'anno scorso già a maggio pattinavamo siamo andati a Baselga di Pinè ad allenarci quindi avevamo il ghiaccio già da maggio e così però nel periodo estivo si alterna comunque l'atletica al ghiaccio non è prettamente ghiaccio? no cioè facciamo se si riesce facciamo comunque due allenamenti su ghiaccio al giorno però magari uno un po' più leggero poi si va a fare un allenamento di corsa oppure si va si va in bici appena dopo dopo il ghiaccio oppure c'è il giorno solo di ripetute in pista continui a girare a correre a fare scatti o cose una preparazione a 360 gradi la parte atletica spazia sì dobbiamo fare un po' di tutto cioè a partire vabbè dalla bici che bici fai ripetute in salita oppure in piano fai la velocità fai il giorno che fai le tre ore e mezza di bici o invece di corsa anche lì c'è il giorno che ti devi fare 40 minuti un'ora di corsa oppure il giorno che devi farti gli scatti poi facciare l'agilità un po' di destrezza anche lì ci serve un po' di tutto qual è la parte più difficile da allenare secondo te? ma per me la resistenza perché dopo mezz'ora di corsa sono già stanca no io preferisco lavori veloci agilità così sei più esclusiva però sei anche fortunata perché la resistenza è la disciplina che è più facile allenare rispetto se tu non hai dotte da sprinter o da forza meno quella posso allenarla beh sì ti abbiamo visto in questi giorni durante il giro d'Italia che sei uscita con la tua bicicletta da corsa pioveva non ci hai rinunciato vuol dire che ti piace anche sì si vede che mi è venuta una malsana idea di gestire la pioggia infatti ho detto la prossima volta che mi viene così chiudetemi in casa così che non prendo l'acqua però no alla fine è stato bello vedere anche tutti i ciclisti un sacco di gente comunque che era sulle strade a fare il tifo però c'è bello hai degli hobby non c'è solo ghiaccio nella tua vita sì mi piace un sacco leggere leggo sempre adesso non mi sono portata dietro un libro ma perché dovevo fare altro non potevo mettermi qua a leggere no di solito anche quando vado a fare allenamento per dire se faccio riscaldamento e spin bike magari mi porto un libro intanto leggo hai un autore preferito? no mi piace un po' di tutto spazio dai classici thriller di tutto proprio l'ultimo libro che hai letto? sto leggendo il buio oltre la siepe di Harper Lee non so se si conosce vabbè ci informeremo e c'ho la casa piena libri infatti mia mamma ogni tanto mi sgrida perché continuo a comprarne sarà una passione che ti avrà sicuramente tramandato tua madre sempre presente durante i tuoi appuntamenti sia sul ghiaccio insomma è una figura centrale nella tua vita non ha mai saltato un allenamento da quando ero piccola cioè quando ero proprio piccola che mi allenava a Bormio lei mi portava gli altri genitori prendevano andavano a farsi una passeggiata lei no si metteva la giacca stava in balaustra al freddo aspettare guardava quindi si è appassionata anche allo short track e tutto adesso con i ritiri della squadra è un po' più difficile anche perché devo andare al lavoro quindi giustamente però la tecnologia però la tecnologia le viene in soccorso si 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 poi anche tra video foto ci segui sempre in qualche modo ci segui e brava brava la mamma Alessia bravissima la mamma è sempre la mamma dicevamo hobby oltre a leggere la fotografia diciamo mi piace quest'anno ho comprato una macchina fotografica nuova obiettivi mi sto dando sto studiando un po' mi piace anche quando sono andata sono andata al mare in Messico mi sono provata dietro la macchina fotografica tre piede mi sono svegliata alle 5 a fare le foto all'alba provato poi non solo questa cima ma mi piace ci provo anche in gara cioè quando andiamo in giro per le gare ho sempre la macchina fotografica quindi pian piano pian piano si impara e poi hai 21 anni quindi amicizie frequenti amici insomma una vita un po' di discoteca no si qualche volta qualche volta capita magari il giovedì sera andiamo a karaoke andiamo a cantare tutti insieme o il sabato sera se c'è l'occasione non esco proprio così spesso ma se c'è l'occasione mi piace anche ballare quindi non mi tiro indietro benissimo allora Elena io all'inizio puntata abbiamo accennato che avevi portato la medaglia mostracela è arrivato il momento bene dai beh mettila eccola che emozione vuoi? grazie le approfitto la mostriamo a favore di camera beh è bella è molto bella sì un po' pesante però pesante quanto il risultato ok te la faccio tenere a te mostra la tua telecamera e chiudiamo su queste immagini su questa tua su questa tua medaglia speriamo non sia l'ultima che cosa farai da grande? ci hai già pensato quando smetterai tra 20 anni di pattinare? sì magari 20 anni no 20 anni sono un po' troppi dovrei arrivare a 41 anni mi sa che è un po' difficile no 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 è difficilissimo però no non ci ho ancora pensato vedrò al momento quando smetto comunque c'ho tempo finché finché mi piace continuo poi ci rifletterò su comunque non c'ho tempo lontano lontano questo pensiero te l'ho chiesto perché so che sei una ragazza molto molto attiva mi accennavi prima che volevi magari anche studiare ritornare in università quindi studiarono cioè mi è sempre piaciuto studiare poi ovviamente non sono questa non ho avuto super ottimi risultati delle superiori ok però me la sono cavata mi sarebbe piaciuto studiare fisioterapia o scienze motorie comunque qualcosa che riguarda lo sport così però lì c'è l'obbligo di frequenza quindi ora come ora non si può pensa a pattinare vedremo dopo grazie ancora grazie davvero bocca al lupo per la tua carriera grazie a voi grazie a voi grazie a voi amici per averci seguito da casa vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a voi grazie a voi grazie a voi